Previo qualità a massimo esponente della Scuola Romana dei Canto Autori, la diartistica, 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 con 60 milioni di copie, Edoardo Pianello! Buonasera, grazie a tutti i giorni di santo! Maestro, buonasera di giorno a me, maestro! Eccoci a tutti i giorni di santo! Buonasera! Ma io viaggio di oggi, perché tu mi ti hai inviata da un pitture, anzi grazie a tutti i giorni di santo, che è un momento particolare, se quando ho detto che non puoi vedere il paesone, lo sento a scopo o no? Ho detto adesso, ma provviso che mi dai sempre meglio. Allora non prego a preminare questo prego, perché invece questo prego non conosco me, bene, non seguo da 14 anni solo perché non ci muocevamo prima, ma da quando non sono sicuro di essere sempre presente, allora un premio di una sicurità, di una venuta! Beh, insomma, ha reso i loro 66 anni che era un premio! Cosa c'è? Non so! Un saluto a me avete un po' esagerato ogni sette volte. Ah, sì! Se non è passato a uno! Questo è uguale? Quale? Quale? Grazie! 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 Spero che sui sette conti smantirglielo sette mandi e cos'altro che se lo vedi di sera allora se mi comprende se mi stanno vendendo se no ho avuto niente e ti inizi a fare e lo ha proprio bene grazie grazie